Allora ci troviamo anche oggi in compagnia di Silvia Del Giudice, questa volta però non come cuoca come la vediamo sempre nel nostro programma ma in qualità di organizzatrice di un evento, quindi uno spettacolo che andrà in scena al teatro Longobardo sabato prossimo, quindi il 12 maggio. Insieme a noi troviamo anche un'altra figura molto importante di questo spettacolo e quindi è la rappresentante del comitato Santa Maria Maddalena, Anna Paduano, ecco io mi dimentico sempre i nomi scusate. Allora cominciamo da te, com'è nata l'idea di questo spettacolo? Ma io da anni ormai organizzo questi spettacoli, però quest'anno l'idea di fare uno spettacolo interamente fatto dalle donne e dedicato alle donne mi è nata vedendo queste splendide cinquantenni di questo comitato classe 1962 e ho detto beh, quest'anno faremo uno spettacolo carico e ricchissimo di sorprese, sì sì. E infatti non abbiamo detto il titolo di questo spettacolo ma ce lo puoi ricordare? Sì sì, il titolo è Donna virgola, che spettacolo! Sì sì. Ok, e chi lo presenta? Beh, lo presentiamo un po' tutte, è una sorpresa. È una sorpresa, però insomma quando diciamo... Sì, siamo tante donne. Diciamo che è la prima volta che si verifica un evento del genere, in genere in quest'isola gli spettacoli infatti sono sempre stati presentati dagli uomini. Quest'anno la nostra sorpresa... Saremo proprio noi. La vostra sorpresa saremo proprio noi. Quindi, non ci vuoi anticipare niente, questo l'abbiamo capito, però ci saranno molte sorprese. Oltre alla musica ovviamente, cosa ci proponete altro? Beh, intanto tutta la parte musicale sarà dedicata a un artista recentemente scomparsa, ma che almeno per quelli della mia generazione ha segnato l'adolescenza ed è la grandissima Whitney Houston. Quindi la maggior parte dei pezzi musicali saranno dedicati a lei. E poi avremo una parte dello spettacolo dedicata alla poesia, con una vera sorpresa, però questo non ve lo anticipo, insomma lo lascio un po' così. E invece lei ci può anticipare qualcosa, un'altra piccola cosuccia che ci può essere nello spettacolo? Beh, ci sarà una figura femminile che prenderà un pochino rilievo, che sarà una rappresentante del nostro comitato, che verrà eletta dopo una piccola selezione fatta fra i ragazzi partecipanti. Rimarranno quattro fra le ragazze, diciamo, più votate e noi del comitato sceglieremo la preferita che ci rappresenterà in tutte le manifestazioni pubbliche e ci affiancherà, per esempio, nel consegnare fiori oppure nel fare qualsiasi cosa dove c'è bisogno di una bella presenza femminile. È sicuramente una bellissima opportunità per una ragazza, delle tante ragazze che noi abbiamo, e delle splendide ragazze che noi abbiamo qui nell'isola. Insomma, sì, ci saranno tante sorprese in questo spettacolo. Non c'è solo moda, non c'è solo musica, ma c'è arte, poesia, insomma, abbiamo messo insieme un sacco di cose belle per voi. Io ne approfitto di questo spot intanto per ringraziare il comitato che mi ha dato questa grande possibilità e questa bella opportunità anche a me. Insomma, voglio dire, organizzare uno spettacolo, Silvia, è un po', no, 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 è relativamente semplice, è un po' come cucinare, sai? Eh, appunto, non è semplice, aggiungiamo. No, no, è che quando tu cucini... Impegno, fantasia, tempo. No, ma poi quando tu cucini cosa fai? Prendi gli ingredienti, la materia prima più buona che tu possa trovare, la metti insieme e fai un piatto meraviglioso. Nel caso dello spettacolo cosa fai? Tu prendi tutti i talenti, li unisci, li organizzi e poi viene fuori, speriamo, una cosa bellissima. Beh, visto che ci sei tu, io penso che sarà una cosa bellissima. Sarà una bella collaborazione. Tra l'altro quest'anno io mi avrò anche della collaborazione di Pino Ropresti, che è un ragazzo, come dico io, che la generosità è direttamente proporzionale al suo talento. Per cui, insomma, poi avrò tutto il gruppo delle Ladies Organization, che è praticamente un insieme di donne che insieme a me, insomma, collaborano per cercare di ottenere un risultato buono. Perfetto, quindi tutte donne, noi, anche noi di Corrente TV seguiremo, senz'altro, lo sapete. Sì, voi dovete esserci. Io ormai senza Corrente TV non posso guardare. E quindi ci vediamo, spero, noi e tantissima altra gente. Verrà messo in scena, sì, il 12 maggio, quindi sabato 12 maggio, incomincieremo alle 21.30 e mi raccomando vi aspettiamo numerosi. Il Comitato ha bisogno della presenza in sala di un numero grandissimo di persone, perché con il ricavato che verrà... Ecco, volevo appunto ricordare... Sì, con il ricavato del biglietto, poi daremo proprio al Comitato la possibilità di promuovere tutti gli eventi quest'estate, perché, insomma, promuovere gli eventi ha un costo. Ed è una cosa importante, visto e considerato che alla Maddalena ultimamente scarseggiamo un po' di eventi seri e belli e seri. Eh, ma perché ci vuole grande impegno. Quindi ci va impegno, ci vanno soldi e speriamo che la maggior parte dei Maddalenini e altri, perché no... Partecipi, ecco, noi chiediamo la partecipazione di tutti, davvero. Ve lo chiedo proprio col cuore in mano. Quindi, Anna, tu vuoi aggiungere qualcosa? Volevo soltanto dire che nel nostro intento come Comitato c'è l'intenzione di prolungare gli eventi, non circoscriverli soltanto al periodo estivo, ma prolungarli fino a tutto il periodo invernale, col nostro impegno. Quindi invito tutti quanti a partecipare proprio per darci questa possibilità. Allora, per oggi è tutto, ci vediamo sabato prossimo al Trattato Primo Longobardo. Vi aspettiamo, un bacio. Ciao. Ciao.